Un cantiere infinito e gli orari invernali della ZTL che di fatto al di fuori del fine settimana non invoglierebbero i potenziali clienti a uscire, avrebbero di fatto dimezzato la clientela a diversi esercenti del centro storico cittadino. A sollevare il problema è Nino Briffi, titolare di una nota trattoria del quartiere San Giovanni, che da quando è partito il cantiere per la riqualificazione di Via Ventura avrebbe avuto un crollo dei coperti, soprattutto all'ora di pranzo, di quasi il 60%. Hanno aperto questo cantiere a inizio giugno e da lì sono nati i nostri problemi perché giustamente non avendo via di entrata per arrivare diciamo qua alla nostra attività per noi è diventato un problema, soprattutto per il parcheggio, per le persone che comunque arrivano anche da fuori Gela, che comunque trovano difficoltà a trovare la nostra attività. Ovviamente è giusto che i lavori in questa città si facciano, ma anche è giusto rispettare i termini di consegna dei lavori. Il cantiere aperto giugno scorso ha subito diversi ritardi a causa dell'approvvigionamento dei materiali e della carenza temporanea di operai disponibili, problemi che ad oggi, dicono dal settore lavori pubblici, dovrebbero essere quasi interamente superati. I danni economici però, secondo il ristoratore, rimangono. Noi ne abbiamo risentito soprattutto nel fatturato per i nostri pranzi, i nostri pranzi sono calati, non sono più come erano prima e giustamente questo noi ingolpiamo la strada e soprattutto diciamo questi lavori che non sono stati consegnati nei tempi stabiliti. Briffi critica anche gli orari della zona traffico limitato, comprensibili nel weekend ma eccessivi, secondo lui, durante la settimana. Non capiamo il perché comunque la ZTL ancora di settimana fino a mezzanotte è attiva, non capiamo il perché. La piazza è desolata, la gente non esce perché comunque in piazza non viene nessuno, visto che non ci sono attività commerciali, ristorative, ricettive. Quindi anche questo per noi è un grosso problema e soprattutto per le vie di entrata nel quartiere San Giovanni. Abbiamo proposto pure ad alcuni uffici del comune di cambiare il senso di marcia di alcune strade ma ci è stato negato pure questo. Qual è l'appello che volete fare all'amministrazione? L'appello che vogliamo fare è comunque che i lavori si sbrigano ad essere consegnati perché giustamente noi dobbiamo lavorare e soprattutto anche la ZTL che viene comunque di settimana, verrà bloccata a un orario consono per cui la gente può passare, può avere vie di passaggio per arrivare nei nostri quartieri.